Suso difende però il possesso, fa salire Abate a destra, Zoppi che ancora in maniera evidente dall'altra parte Niang, palla dentro intanto per Suso che arriva prima di Benatiavole, girarsi sul sinistro, palla dentro per Locatelli in area di rigore, il destro di Locatelli! E il Milan è in vantaggio con il secondo gol in campionato da parte di Manuel Locatelli, Milan 1, Juventus 0, un destro spaventoso del numero 73 rosso nero. Ha trovato lo spazio giusto per concludere in porta, destro violentissimo che sbatte sulla traversa e poi si insacca, questa è l'azione, Abate con l'esterno dentro da Suso che difende il pallone da Benatiavole, lo rimette intelligentemente dietro dove arriva Locatelli, controllo e destro, un altro gol bellissimo, segna solo, gol fantastici, Manuel Locatelli dopo quello contro il Sassuolo, sempre a San Siro, anche contro la Juve. E questi sono ovviamente momenti che possono essere assolutamente da predestinato.